punti. Buongiorno ai fottutissimi amici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Sei carichissimo Nicola, so che sei carico, vero? Ammolla. Sì, no, sono perplesso, dispiaciuto e anche un po', insomma, passatemi il termine, che nessuno si offenda, questo è il periodo in cui tutti si offendono. È anche un po' divertito di questa trama narrativa che si dipana davanti ai nostri occhi, insomma. Sembra che ci sia un narratore impazzito che voglia far vedere che l'Italia è in mano a circa 20-25 milioni di fascisti in armi e ovviamente non è così, ma è molto più facile dire questa cosa che fare quello che andrebbe fatto, ovvero politica. Buongiorno ragazzi, ecco il mio pippone d'inizio, direbbe Carlo Calenda. Questo è il buongiorno. A proposito, diremo qualcosa pure sui pipponi e su, immagino. Allora, è domenica, stiamo registrando domenica mattina. Ieri abbiamo assistito a quello a cui tutti probabilmente hanno assistito, cioè la manifestazione di Roma, che è indicativa di alcune cose. Adesso vedremo di sentire un pochino Marco e Nicola che cosa ne pensano. Io lascerei la parola a voi e poi andrei pian piano a ritroso verso le elezioni che comunque qualcosa ci hanno detto. Io ho commentato le elezioni facendo un'analisi dei quattro principali attori in questo momento, però mi piace anche sentire la vostra opinione, chiaramente un focus particolare anche sui risultati del Movimento 5 Stelle, altrimenti questa rubrica che si chiama Osservatorio Galassia 5 Stelle non ha da essere. E poi se volete un accenno a come stiamo pensando, solo un accenno però perché non si fa spoiler, a quello che stiamo pensando per rinnovarla, adeguarla ai tempi. Allora, non cronaca, commento su quello che è successo ieri. Marco, come l'hai vista tu da Londra? Dici, dici. Io ho visto quello che è successo dopo perché in un weekend io mi godo le passeggiate in centro a Londra, ma al di là di questo non ho perversioni di andare a guardare quello che combina un fiore e castellino in diretta. Ma al di là di questo un commento mi viene da fare. Se stiamo di fronte a una deriva fascista, allora Grillo quando diceva che il Movimento 5 Stelle serviva per evitare la deriva fascista ha fallito in pieno, perché non è successo questa cosa qua. Io penso che siamo più che altro di fronte a una per singole persone o più piccoli gruppi di persone che approfittano della tensione e dell'ignoranza poi della folla della massa per fare un po' di casino. Io mi sono fatto l'idea in questi anni che alla fine più o meno le persone che fanno casino sono sempre le stesse, una volta lo fanno per il Green Pass, l'altra volta per i vaccini, l'altra volta per qualcos'altro, ma questo è insomma. Non penso che sia da sottovalutare alcuni aspetti, alcune critiche alle norme come facciamo anche noi quando è necessario, che ovviamente non giustifica la deriva violenta in alcun modo. Però insomma questo è il fatto che non ci sia più diciamo il Movimento 5 Stelle a fare da argine non mi sembra un'argomentazione sensata perché non è mai stato così insomma, anzi ricordiamo che Grillo era quello che invitava i fascisti di Casa Pound nel Movimento 5 Stelle per, 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 era in occasione delle elezioni del sindaco di, prima di Virginia Raggi, insomma, quindi queste sono abbastanza ciocchezze secondo me. No, insomma, chiediamo una cosa prima di entrare in qualche blacklist. Allora, l'assalto agli uffici della CGL è un simbolo abbattuto. È una scena veramente difficile da digerire. Solitamente gli assalti alle eh sedi dei sindacati avvengono in paesi eh diciamo occidentali democratici e di salda cultura democratica. E quindi quella scena è orripilante, terrificante. È facile farsi venire in mente l'assalto di Capitol Hill, quello quello sì. È una scena firmata, questo è evidente, perché eh il l'ormai anziano camerata Roberto Fiore era lì a farsi fotografare eh e a far vedere e a metterci la firma. Eh quello che però a noi interessa è eh fare un cercare di 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 saper leggere di saper leggere i fatti e e vestirli di un significato in questo caso politico. Eh va chiarita intanto una cosa ehm la democrazia non è finita nelle mani dei fascisti, è il contrario. Dal 1945 sono i fascisti che sono finiti nelle mani e nella democrazia in Italia. Questo è un fatto. C'è un altro fatto che dipingere eh questo paese come eh preda di gruppi ultra 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 minoritari ehm che hanno sedi e su questo si potrebbe fare una lunga discussione come è mai possibile insomma visto che c'è un un articolo una norma transitoria e una legge. Qualcosa possiamo anche dirlo c'è stata una dichiarazione di Fiano sullo scioglimento di di alcune formazioni che sono dichiaratamente dichiaratamente fasciste è usile girarci intorno e poi non sono lì le sedi eh le manifestazioni le organizzazioni. Esattamente. Ora il punto è questo però se in Italia ci sono pochi o tanti fascisti la domanda è e che famo? Apriamo i campi di concentramento i campi di rieducazione che che famo? La risposta è ovviamente facile è enorme magari non come fare un tweet insomma per a petto in fuori ed è la politica fare politica il fascismo si batte facendo politica punto e ve lo ripeto è facile e è assolutamente complesso. L'altro punto però è non capire e c'è eh da ieri online un un eccezionale eh analisi di Alessandro De Anderis sull'Huffington Post che racconta un fatto molto semplice cioè nei momenti in cui la politica si ammanta di retorica che è bella che fa bene al cuore che ci aiuta a migliorare le nostre giornate di merda che cosa fa opera dei tagli opera dei tagli alla realtà è quello che racconta Alessandro in questo suo pezzo dicendo sostanzialmente due cose se pensate che questo è un post covid no è peggio perché dopo il covid ci siamo accorti che anni di politica deficitaria e se non in alcuni casi pericolosa hanno prodotto ci hanno fatto andare indietro e questo non è solo quindi il risultato il il la questione del green pass è ovviamente strumentale ma ricominciamo da capo con un paese culturalmente arretrato socialmente arretrato economicamente arretrato quindi dire in questa orgia di retorica qualsiasi cosa facciamo anche se andiamo a letto col nostro partner ripartiamo la ripartenza non funziona non funziona perché non raccontiamo questo paese Alessandro ecco questo è questo è il pezzo è esattamente questo molto interessante come molti editoriali di Alessandro ma sì ma ma perché insomma io non io lo dico e lo ammetto io sono amico di di Alessandro soprattutto gli voglio bene per quello che scrive soprattutto quando non sono d'accordo secondo me questo è la bellezza di di conoscere poi chi scrive che hai che hai la possibilità di mandare un messaggio di alzare il telefono e dirti perché me lo spieghi ora noi siamo noi siamo a un punto che che tre 2013 solo che nel 2013 come raccontava Marco ci fu quell'esplosione del del Movimento 5 Stelle che raccontava un'Italia che non ci piaceva su cui non eravamo d'accordo eravamo parzialmente d'accordo ma che esisteva ora io non sono un un giurista per cui non mi permette di entrare in questa storia ma qui in questa diatriba qui ci sono due questioni poi la questione diciamo del neofascismo italiano ci arriviamo alla fine sono due questioni la prima è come si esce definitivamente da questa pandemia e in un modo in un altro ne usciremo se non fosse che a proposito di tagli nella narrazione per bene colorata ed educata noi abbiamo credo metà del pianeta forse di più in termini numerici ben oltre la metà del pianeta che non ha accesso a questo vaccino che non ha accesso a cure che non ha accesso a ospedali io vivo in Sicilia il continente africano l'abbiamo qui attaccato alle spalle ed è evidente che se noi non ci poniamo il problema in questo l'oms che possiamo criticare ed è giusto criticare ma l'ha detto molti mesi fa o noi mettiamo a disposizione come i governi occidentali ci hanno promesso miliardi di dosi del vaccino ai paesi africani se no non ne usciremo più attenzione non è una questione di dosi di disposizione perché le dosi di disposizione se ci sono è una questione logistica è una cosa mettere in piedi una faccio una piccola inciso perché ieri pomeriggio mi capitava di vedere un bellissimo documentario su disney plus del national geografic su fauci che fu uno dei principali fautori organizzatori della campagna logistica di cure dell'ids in africa sotto l'amministrazione busci bisognerebbe mettere in piedi un'operazione del genere è vero vestire un pacco di miliardi per 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 vaccinare per vaccinare è possibile farlo perché è fatto fatto negli anni 90 certo si non è un questa è una cosa che abbiamo anche analizzato qualche mese fa con con luciano capone mi pare al momento non è un problema di capacità produttiva il problema di capacità produttiva abbiamo a inizio dell'anno fondamentalmente lì c'era perché vi ricordate tutte le discorsi legati non soltanto la strazeneca di cui si è parlato a sproposito ma pfizer che non aveva numero sufficiente di produttori eh poi si è parlato anche di liberare i vaccini cioè le dose ci sono oggi quei problemi di produzione sono stati superati il problema è molto spesso è in parte per fortuna per pochissimo tempo abbiamo vissuto anche noi all'inizio della distribuzione il problema è logistico perché mettere in piedi una macchina logistica di questa dimensione è un'impresa titanica una cosa che mi ha sorpreso Nicola tu dici bene i paesi dell'Africa una cosa che mi ha sorpreso è una notizia che non ho avuto il tempo francamente di approfondire che in Romania cioè qui di qui alle porte eh hanno chiuso per un mese la possibilità di fare operazioni negli ospedali perché sono in piena emergenza covid e quindi per un mese non si prendono altri malati ma si prendono soltanto i malati di covid non ho approfondito quindi non so se la notizia è vera l'ho ascoltata soltanto i 24 presumo che sia eh che sia una notizia ho letto anche io esatto quindi voglio dire c'è un'emergenza che è legata alla capacità del struttura paese di reagire con una eh messa in 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 a sistema di una macchina logistica che è necessariamente complicata assolutamente vero avete fatto bene a a correggermi eh è così sono io a ad aver usato la parola la parola la parola a quello a quello che sta succedendo però d'America ancora no esatto io ho amici in Sud America che hanno credo i due terzi dei 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 sudamericani sono vaccinati per esempio con Sputnik esatto che è un vaccino che non ha passato credo il secondo secondo step in Italia infatti continuano a morire a con numeri infatti continuano a morire con numeri spaventosi ora però consentite di fare di fare questa considerazione e la puzza di bruciato in questa in questa narrazione che vuole l'Italia preda di gruppuscoli fascisti e nazisti è una narrazione tossica è profondamente politica nel senso deteriore del termine è questo che io reputo inaccettabile e vi faccio un paio di brevissime considerazioni il fascismo è anche una tecnica ed è soprattutto una tecnica comunitativa ok perfetto io faccio una domanda a a chi ne sa più di me e a chi sa leggere meglio di me noi siamo sicuri che in questo paese negli ultimi trent'anni questa tecnica di comunicazione non sia stata usata non soltanto nell'estrema destra ma più o meno in tutto l'arco costituzionale e non io qualche dubbio ce l'ho no ma per esempio ti posso rispondere finisco finiscono tu mi rispondi nei modi che vuoi come sempre come giusto poi c'è un'altra cosa io mi sono scocciato di ascoltare questi eseggeti del fascismo che non hanno mai letto manco due righe di renzo de felice che ha chiarito decenni fa la questione il punto è che finché questo paese si guarda alle spalle e dice sono come i fascisti del 43 non ha capito niente perché poi le stesse persone non sono capaci quelle in buona fede ovviamente di guardare ai cosiddetti nuovi fascismi ora qualcuno mi dovrebbe definire che cosa è il regime cinese per esempio e ovviamente non lo fanno perché l'incapacità dell'antifascismo militante fighetto e perbenista non è capace di guardare al futuro ti deve sempre regolare i conti col passato per acchiappare quei due tre voti perfettini e pulitini e ideologicamente secondo loro puri ma il punto è un altro è guardare alle in caso non solo alle nuove forme di fascismo ma che cosa qual è l'impatto io e marco ci abbiamo provato e ci proviamo da anni con le nostre piccole modeste voci e competenze a dire che la tecnologia ha davvero mutato le modalità di gestione e di raccolta del consenso e su questo quelli capaci e bravi che militano a sinistra io non è che non sono di sinistra io non milito a sinistra è ben differente non si pongono il problema di questo futuro e infatti non c'è mi sembra un politico o un intellettuale che di fronte alla minaccia chiarissima di xin ji ping leader cinese che dice verranno faranno una brutta fine tutte quelle persone che si opporranno all'unificazione con taiwan non dice niente ora è chiaro che se la cina continua a far svolazzare i suoi caccia su taiwan diciamo siamo siamo un filino sotto danzica per intenderci perché sarebbe intollerabile è come se l'italia di draghi di meloni o di d'alema dicesse beh ragazzi ce l'ha ridata indietro l'istria e mezza e mezza croazia succederebbe un delirio e però di questo non raccontiamo niente perché perché siamo rimasti ad allora quello che mi fa specie e finisco il pippone è che l'amnistia ai fascisti in questo paese l'ha dato il politico più stalinista che abbia mai calcato le piazze italiane cioè palmiro togliatti che però era uno che di politica e anche di cinismo politico se ne intendeva davvero e l'ha fatto perché sapeva che non c'era un altro modo così come è stato fatto negli anni cinquanta in germania una cosa del genere per cui per decenni non abbiamo avuto la burocrazia tedesca infarcita di ex nazisti o quello che era il motivo è sempre questo combattere con armi vecchie il passato per lucrare due voti perché impossibile questo paese abbia paura di di un avanzo di galera come fiore è impossibile io mi rifiuto di pensarci il problema invece un altro che questo paese non ha fatto i conti con la crisi gigantesca venuta fuori dal nel quadriennio 2008 2012 per cui siamo ritornati indietro e e ripete questa prosopopea della ripartenza qualsiasi cosa facciamo nella nostra vita è la ripartenza non funziona a capire il disagio reale o comunque percepito come tale in questo paese eh prima di lasciare la parola a Marco una cosa ehm credo che di fondo sarà una mia fissazione eh c'è quello che appunto descrive De Angelis cioè che la profonda retratezza culturale che non significa non saper leggere e scrivere significa non saper eh comprendere che cosa avviene intorno e questo paese è tremendamente retratato culturalmente la la incapacità di leggere l'evoluzione degli eventi il cambiamento della società delle tecnologie delle pulsioni delle aspirazioni e così via eh e quello alla base alla base di tutto e noi nel nostro piccolo liberi oltre fondamentalmente siamo nati per fare per stimolare un dibattito culturale intellettuale diverso da quello a cui esistiamo questo paese a destra come a sinistra forse un po' più a destra che a sinistra ma generalmente ovunque in tutto l'arco costituzionale non è un paese che non ha la capacità di leggere i cambiamenti io ero passato una serata peraltro molto stimolante molto divertente a sentire delle boiate gigantesche gigantesche per tre ore per tre ore eh da parte di eh persone che si dicono come dire di destra ma non leghisti e che hanno una confusione mentale proprio nel leggere i fenomeni nel capire in quale cazzo di mondo si muovono perché avvengono certe cose perché non ne avvengono altre che vi assicuro mi ha raggelato mi ha raggelato e credo che sia eh una cosa molto generalizzata questa cioè l'italiano medio che poi si riflette anche nel politico medio che spesso rincorre l'italiano medio alla ricerca del suo consenso del suo voto eh ehm è questa roba qui è questa roba qui accade un fatto accade una cosa enorme come la pandemia e si reagisce non con la logica e con la razionalità ma si reagisce col fatto che è molto più semplice peraltro eh bisogna andare contro questo contro il sistema contro l'ordine contro e tutte le aree le varie minchiate e non è soltanto non mi riferisco soltanto i complottisti c'è una frase che deve diventare assolutamente un meme detta a Nicola la settimana scorsa no i complotti esistono sono i complottisti che non hanno capito un cazzo esatto aggiungo grazie no a me l'è fantastico è fantastico adesso me la metterò vedremo come eh come renderla come meme non sono soltanto i complottisti che non hanno capito un cazzo gran parte degli italiani e aggiungo degli europei almeno alcuni europei non hanno capito un cazzo di quello che succede vai scusate allora tante cose ho tanti tante cose nella testa che cerco di elaborare in maniera organica e coordinata allora spunto di Nicola su sulla sul fascismo come tecnica ma guardate che noi abbiamo raccontato tante volte è utile ricordarlo anche oggi Gianroberto Casaleggio io lo posso testimoniare di prima mano perché ero nella stanza in cui quelle cose venivano dette e pronunciate dalla sua bocca aveva tre ehm come dire punti di riferimento quando organizzava la comunicazione e la propaganda del Movimento 5 Stelle ehm io mi ricordo distintamente perché mi gelò il sangue letteralmente mi gelò il sangue eh quando nel progettare il primo videi ehm lui fece riferimento alla propaganda fascista dicendo Mussolini vinse perché andava a mandava i suoi nelle piazze a installare gli altoparlanti della radio quando faceva i discorsi noi dobbiamo fare la stessa cosa quindi ogni banchetto in ogni città avrà la televisione che mostra in diretta la piazza di Bologna e di Grillo primo secondo ehm io ricordo una una battuta che lui fece eh parlando di se stesso del suo del suo del proprio ruolo eh come organizzatore e come eh ghostwriter di Grillo facendo riferimento a se stesso come un un come dire un mix tra ehm Enrico Cuccia e Licio Gelli eh quindi silenzioso e manovratore no a proposito di 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 tecnica fascista ovviamente riferito a Licio Gelli e al al povero Cuccia però insomma certo che abbiamo avuto una certo che negli ultimi quindici anni la comunicazione politica è stata fatta anche con tecniche fasciste assolutamente sì cioè ma dichiaratamente nel privato delle stanze in cui queste tecniche si 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 organizzavano sì è successo e ha ragione Nicola quando dice che la comunicazione la tecnologia negli ultimi trent'anni ha cambiato tutto della comunicazione corporate politica economica tutto ha cambiato ora invece parlando non invece associando quello che abbiamo appena detto con quello che dicevi tu all'inizio eh Costantino su su quello che ci piacerebbe diventasse o affrontasse questa questo nostro appuntamento settimanale a me spaventa il fatto che ehm non abbiamo saputo capire Berlusconi quando è arrivato perché non capivamo il l'influenza delle televisioni sul sui processi eh elettorali è vero non l'abbiamo capito preparati è vero non lo abbiamo capito quando il Movimento 5 Stelle ha cominciato eh la sua avventura o meglio non lo ha capito non hanno capito gli avversari io personalmente avevo la fortuna di 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 essere nelle stanze in cui appunto avveniva e e quello che ho visto cioè da 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 dentro quell'organizzazione è che veramente le persone preposte a capire quello che stava succedendo e a raccontarlo veramente non avevano gli strumenti necessari per farlo commettevano errori su errori su errori ehm proprio di interpretazione non soltanto gli avversari politici ma anche proprio i giornalisti la 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 carta a parte quelli embedded senza necessariamente dover spiegare chi fossero ma lo sappiamo benissimo io preferisco non farlo per motivi personali eh però quello è ehm però veramente non c'è stata la capacità di capirlo ehm e non io quello che vorrei quello che vorrei che noi facessimo è cercare di anticipare quello che succederà fra due anni perché ehm io mi sono convinto di una cosa il vantaggio competitivo funziona per un limitato periodo di tempo per quelle organizzazioni che capiscono il e e cavalcano il cambiamento che avviene perché il vantaggio competitivo Berlusconi ce l'ha avuto per un quindicennio di fatto ehm dopodiché è svanito eh è svanito un po' perché anche gli altri hanno capito come utilizzare i mezzi televisivi un po' un po' perché ovviamente si è esaurita la sua la sua spinta politica diciamo eh stessa cosa vale per il Movimento 5 Stelle e il secondo me anche la la Lega di Salvini ehm non penso che eh anzi non voglio proprio parlare della della del non voglio neanche nominare il il suo responsabile della comunicazione per rispetto nei suoi confronti eh però non penso che il i problemi di Salvini eh inizino adesso ma penso che fossero iniziati prima perché appunto si è esaurita la 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 si è esaurito il vantaggio competitivo che il Movimento e la Lega avevano per aver saputo utilizzare in mezzo dei social network in particolare come appunto come 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 mezzo di comunicazione privilegiato eh un po' ripeto perché anche adesso gli altri hanno capito figuriamoci c'è l'ha capito Calenda eh un po' in ritardo e infatti nonostante il 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 risultato molto positivo in termini assoluti come ha detto lui stesso io volevo fare il sindaco di Roma e non lo farò e quindi ho perso quindi anche chi eh ha saputo utilizzare con efficacia il il mezzo comunque non riesce più a a battere la concorrenza utilizzando il mezzo e quindi e dopo cosa succede? What's next? Eh cosa succederà nel 2023? Quale sarà il vantaggio competitivo di chi vincerà? Eh io non sono così ottimista da pensare che sia la politica cioè la buona politica eh penso che dobbiamo far cominciare la ricerca per eh almeno se no non dico mitigare perché non ho queste ambizioni non penso che abbiamo le risorse per farlo però almeno per spiegarlo per capirlo e spiegarlo eh penso che noi abbiamo le le capacità di farlo e e dovremmo provare le capacità intellettuali bisogna vedere se dall'altra parte c'è qualcuno che ha altrettanto capacità intellettuali per comprendere che questo paese si salva e non sto parlando semplicemente di PIL visto che è uno degli argomenti della settimana che magari non affronteremo per mancanza di tempo eh è un'altra forma di populismo tra l'altro bravo Marco bravo Marco quella è un'altra forma di populismo esatto agitare la bandierina è una forma di populismo esattamente con tutto rispetto alle congratulazioni per per il premio eh ovviamente sì no ma questo però Marco vale per l'uno e per l'altro eh per l'uno e per l'altro scusatemi il punto qui è uno e e su questo stare io almeno starò costantemente all'opposizione nel con qualsiasi colore politico possa il punto è più divertente è vero è più divertente però in un certo senso eh ci ci configura per quello che siamo qui non è una questione alla fine neanche di politica forse ha ragione Marco qui è una questione di potere e se noi non riusciamo a scomporre e a leggere come si muove il potere saremo sempre degli imbecili degli stupidi che magari per un piccolo talento personale qualche volta ci azzeccheranno ma non avremo la tecnica e tutto qui il fatto in questo è la mia vena anarchica ovviamente che parla è il potere che va scomposto e e e fatto comprendere non è distribuire il potere perché distribuire il potere per come è fatto il legno storto degli umani è praticamente impossibile perché non puoi fare il presidente del consiglio e e stare col click a vedere distribuiamo potere che questa era l'idea folle e balzana di qualcuno che infatti ha portato a quello che ha portato eh su questo argomento un'ultima cosa eh poi magari gli ultimi minuti li spendiamo per commentare ehm che è una cosa importante che voglio semplicemente ribadire perché venga venga come dire memorizzata c'è un filo si dice spesso il fil rouge no no stavolta c'è un filo nero eh fra eh eh il Movimento 5 Stelle e mh e anche eh la destra più estrema ehm ricordo quando Grillo disse ci siamo noi perché quelli non vadano in piazza cioè vengano da noi sostanzialmente perché senza senza eh cercare di di ribaltare le camionette della della polizia o senza assaltare le sedi del CGL certe cose le possono dire da noi io l'ho letta in questo modo e infatti loro i fascisti al governo ce ne hanno portati a meno quelli che stavano nel partito di Salvini eh esatto 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 boh allora poiché ehm siamo stretti che oggi abbiamo tutti quanti una giornata un pochino complicata qualche parolina sui risultati delle delle elezioni amministrative Marco diceva di Calenda io ho commentato ampiamente eh un po' per perché per vicinanza almeno all'area culturale un po' perché sto seguendo l'esperimento dei riformisti e e e sono preoccupatissimo che questo esperimento che sarebbe ennesimo fallisca e mh e un po' perché ho tanti amici dentro azione sto seguendo quello che fa Calenda gli ho fatto i complimenti eh ribaditi anche di persona su come ha condotto la campagna elettorale e soprattutto come ha avuto il coraggio di fare due cose eh non ha fatto sempre in Italia la prima quella di fare Roma sul serio anche nella forma perché non ha fatto lista civetta secondo me è un segnale assolutamente apprezzabile la seconda è stata quella di parlare di temi concreti e non di cose fantasiose o di eh eh futuro radioso senza quello che si deve mettere in pratica per raggiungere un futuro che non sia necessariamente radioso ma che sia decente ha avuto il coraggio di fare un programma molto concreto con alcuni buchi e con alcune e con alcune cose che secondo me non sono affatto efficaci però almeno ha parlato ha parlato di temi concreti gli altri io voglio ci tengo a dire una cosa sul partito democratico in generale sulle elezioni del amministrative non soltanto quelle di Roma contieniti i canestrali no 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 mi contengo sarò assolutamente professionale secondo me il fatto che il partito democratico abbia vinto questa amministrativa questa amministrativa è una gigantesca illusione ottica secondo me non ha vinto il partito democratico secondo me eh hanno perso gli altri per semplificare dire una cosa abbastanza desueta però è così cioè secondo me la vittoria del partito democratico è un'illusione ottica in gran parte dovuta al fatto che Letta ha vinto nel nella sua circoscrizione e quindi è una vittoria personale è una vittoria del 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 segretario del partito quindi del partito però attenzione cioè ehm il partito democratico Roma ha vinto o meglio ha ottenuto quel risultato ehm non vincendo per per perché controlla eh quasi militarmente parte del del voto ehm Michetti ha 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 ottenuto quel risultato perché comunque eh Roma è una città tendenzialmente di destra raggi vabbè cioè cinghiali che giravano per i seggi il minimo mi sembrava che ottenesse quel risultato ehm e e Calenda ha fatto una buona campagna elettorale come dicevi però appunto attenzione a a secondo me proprio per iniziare quel percorso che dici di cui parlavo prima attenzione considerare questa una vittoria del partito democratico o della sinistra perché ogni eh vittoria eh locale soprattutto in questo caso secondo me è una storia assolutamente a sé a Milano per esempio non non c'è stata l'hanno detto in tanti eh ma veramente non c'è stata campagna elettorale cioè letteralmente Sara non ha fatto comizi io sentivo l'altro giorno fuori dalla bolla eh credo che ci fosse il suo campaign manager ehm che diceva noi scientificamente abbiamo deciso di non fare comizi eh perché abbiamo e non fare interviste nazionali perché abbiamo ritenuto che fare comizi in questa situazione eh non soltanto legata al covid ma proprio per l'avversario che avevamo davanti e ehm eh fare interviste di di respiro nazionale ci avrebbe danneggiato eh e quindi non non ha fatto né interviste di delfini nazionali nei comizi e ha vinto al primo turno col sessanta credo per cento qualcosa del genere quindi penso che veramente l'altro l'altro discorso da fare sul Movimento 5 Stelle e chiudo eh è fatto un discorso proprio più di respiro eh generale partendo da dalle prime vittorie nel 2012 il Movimento 5 Stelle non è mai riuscito a rieleggere un singolo candidato un singolo sindaco in una grossa città non so i comuni più piccoli perché sinceramente non non ho approfondito però nelle grandi città non è mai riuscito a rieleggere un sindaco Appendino addirittura è scappata a gambe elevate eh per non certo anche candidata perché non aveva capito di non avere alcuna possibilità ehm l'unico che è riuscito a farsi rieleggere è quello che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle Federico Pizzarotti che è stato quello che ha anche amministrato meglio la società oggettivamente ehm io a Parma ci sono stato un paio di volte durante le i due mandati e mi pare e tra l'altro credo che mia Nicola abbiamo anche avuto modo di parlare con Federico eh prima della sua rielezione ehm ha veramente ha veramente amministrato al meglio delle sue possibilità mettiamo così e delle possibilità del suo gruppo di lavoro perché lui ci teneva a sottolineare il fatto che ehm ha vinto il il gruppo che eh avevano messo in piedi anche grazie all'organizzazione delle e alla capacità attrattiva di quel momento del Movimento 5 Stelle eh ma che era un gruppo di lavoro che prescindeva dal Movimento 5 Stelle si è visto infatti è stato rieletto fuori dal Movimento 5 Stelle ed è l'unico appunto che è stato rieletto cioè quello espulso questo dice molto della 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 parabola e delle delle come dire delle delle intenzioni che avevano Grillo e Casaleggio io non mi avventuro in analisi del voto cioè non è il mio mestiere eh e c'è chi lo sa fare meglio molto meglio di me e c'è qualche migliaio di persone insomma io invece vi vorrei portare su un tema anche questo io un poco fa eh ricordavo la la crisi di Taiwan con quella con quelle parole durissime del leader cinese ma eh intanto ricordatevi che noi abbiamo votato che io io no ovviamente Marco neanche ma ci sono stati eh c'è un partito dell'astensione impressionante e questa è una è una differenza col novantatré ma soprattutto io penso anche che ci sono dei temi eh in cui i nostri partiti diciamo fino dalla sinistra al centro non riescono a ad avere il coraggio eh di di fare la loro proposta uno su tutti e quello che è successo mi pare due giorni fa quando se non sbaglio dodici paesi correggetemi se sbaglio dell'Unione Europea hanno sostenuto che bisognasse fare un muro un muro per gestire non per gestire i flussi migratori qui siamo oltre per bloccare i flussi migratori in Italia questa notizia non è assolutamente diventata di dominio pubblico perché perché dobbiamo parlare del signor Fiore di del neofascismo romano e roba del genere roba seria roba importante non c'è bisogno che loro ripetano ma di questa cosa noi non parliamo e questo sarà uno dei temi su cui si andrà poi ehm a fare propaganda è stato Salvini che ha detto perché l'Italia non dice niente e lui ovviamente si situa con quei dodici paesi se non sbaglio in quella dozzina di paesi ha detto facciamo un muro ora dove sono i moderati progressisti di questo paese non hanno detto niente io vi ricordo che una delle tecniche di comunicazione che più è andata in profondità in Italia per colpa anche di qualche politico progressista è stata che l'Unione Europea decideva una linea giusto sbagliata che fosse e quando c'era un riverbero in Italia tutti dicevano eh ma ce lo chiede l'Europa in maniera tale da far apparire l'Europa come matrigna brutti sporchi cattivi tutti i banchieri e tutti i figli di puttana e non era così perché l'Europa era purtroppo sono anche eh per una nota e terrificante riforma i capi di governo dei ventisette paesi per cui è gente che abbiamo in un certo modo eletto noi ho contribuito alla loro nomina ma è questo il punto secondo voi fra due anni non ci sarà una cosa del genere uno scontro una faglia di scontro pesantissima su fare il muro o o meno quando è evidente la storia del mondo ce lo insegna che i flussi migratori si governano non se non non i muri non servono a niente o li gestisci o o o non funziona è piccola postilla piccola postilla due giorni ieri o l'altro ieri un un importante dirigente delle Nazioni Unite se non sbaglio ha rivelato di una fossa comune qui a due passi dall'Europa in cui vengono torturati uccisi e poi buttati i cadaveri di otto nove lui fa un numero preciso che in termini assoluti ormai noi siamo anestetizzati contro queste cose ma lo vogliamo dire che chi li ha uccisi nei campi di detenzione di Ibici sono persone che vengono pagate con i soldi dello Stato italiano e con i soldi dell'Europa noi finanziamo assassini quanto ipocriti siamo e per dirla con Marco quanto siamo miopi nel far finta di niente fare finta di niente è evidente che dopo Salvini verrà qualcun altro e si metterà a braccetto quel criminale ladrone di Orban e questo il punto cioè e chiudo io non farei all'onorevole Meloni la domanda ma lei che cosa pensa del fascismo ma io direi ma lei che si fa fotografare con con Trump con Orban con gli uomini della destra polacca ma davvero vuole fare la stessa cosa in Italia la ricetta è quella senza tirare non c'è bisogno di tirare in ballo Mussolini la cosa è secca così davvero volete fare le leggi che discriminano eh gli omosessuali uomini e donne nella nell'accesso alla alla propaganda alla pubblica amministrazione e roba davvero volete fare questo e questo significa guardare al futuro e non dividersi su sulle foibe che è stato un crimine ma voglio dire di crimini in quei decenni alzi la mano chi non li ha fatti chi non li ha subiti è tutto qui il punto ecco perché noi siamo vecchi siamo davvero vecchi e questa è una cosa che più di ogni altro mi fa girare le balle perché poi insomma alla fine è il tempo che ci lascia eh non tanto i segni ma i pregi che ci rafforzano i nostri pregiudizi che poi è la roba che ci fa davvero male e che ci fa apparire peggiori di quelli che siamo io non a me non mi interessa sapere che cosa pensa per esempio Massimo D'Alema su Stalin non me ne fotte niente pensasse quello che vuole o di liberto che va a fare il professore universitario in un regime sanguinario come quello cinese io voglio sapere per esempio dai da chi legittimamente si freggia il titolo di comunista in Italia che cosa pensa del regime cinese e di quello che fa questo mi interessa ora non di quello che ha fatto il il noto serial stupratore a nome Mao Zedong perché anche questo era oltre che un un eccezionale leader politico ma era anche quello perché la storia allora la dobbiamo raccontare tutti così come Mussolini era un fanfarone che tentò di scappare dall'Italia con quattro soldi e andarsene in Svizzera perché poi noi siamo anche questo quando dobbiamo essere giudicati eh pubblicamente storicamente insomma c'è c'è l'abitudine o forse la furbizia eh nel dibattito pubblico di di fare i fatti o con gli occhi del passato oppure guardando verso il passato piuttosto che guardando verso il presente analizzando quello che succede e in prospettiva futura perché poi su questo cavolo di paese noi ci dobbiamo paese mondo terra ci dobbiamo vivere da qui in avanti e non da qui indietro e purtroppo banca totalmente questa cosa ehm come dici giustamente richiami al fascismo oppure analizzare che cosa è stato il ventennio fascista ok intanto non spetta a loro ma è materia la storia è materia di storia oh piuttosto a quello che succede oggi perché poi oggi ci siamo e domani ci dovremo essere che cavolo di società vogliamo e parlo non soltanto di società italiana ma giustamente con lo sguardo alla Cina che è importante che tu hai evocato che cosa succederà in futuro perché la Cina è un attore pesantissimo che sta ulteriormente diventando qualcosa di terribile ragazzi io quasi quasi mi fermerei perché stavolta che volevamo essere veloci siamo andati quasi verso l'ora è bello parlare è bello parlare con voi però magari mi fermerei qua e tanto sono temi che riprendiamo allora come dicevo all'inizio stiamo pensando ad una ad un restyling della rubrica il Movimento 5 Stelle non ci basta più come avete anche intuito dalle ultime puntate in cui abbiamo parlato di tutto il Movimento 5 Stelle centrato diciamo così dalla porta di servizio perché la porta di servizio merita in questo momento il Movimento 5 Stelle e stiamo pensando anche di aggiungere qualcosa adesso ripeto non voglio spoilerare stiamo pensando di aggiungere qualcosa con degli interlocutori che di volta in volta si alterneranno e che ci daranno il loro contributo intellettuale sempre di alto profilo come giusto che sia come un pochino la tradizione di questo canale se volete dire qualcosa voi se no ci salutiamo vai Nico no io direi che vi voglio sempre bene e che ci vediamo presto e che non vedo l'ora di mettere in piedi questo format eh nuovo e e di divertire di continuare a divertirci insomma vi abbraccio perfetto baci a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a Nicola buona domenica e ciao a tutti quanti ciao